salve appuntuali e ritardatari questo è il mio generatore cocroff walton come si chiama si dice si scrive e si chiamano gli inventori l'ho costruito quasi involontariamente perché stavo facendo altro qua avevo fatto un circuitino per una specie di starter per lampadine al sodio roba del genere alla fine ho voluto provare se faceva le scariche e faceva le scariche una volta che fa le scariche facciamogliene fare di più giustamente dopo vari tentativi varie revisioni siamo arrivati diciamo al massimo economico dell'azienda vi spiego un po le varie parti allora il moltiplicatore in sé sono 19 stati ogni stato sono due condensatori ceramici di sicurezza li avevo recuperati da avere apparecchi ne avevo un bel po però vi recupero componenti quindi ma ce l'ho gratis sono tutti diversi ma molto simili perché praticamente sono da 4 nano 7 essendo x 1 x 2 praticamente dovrebbero reggere 22 kg volte e passa i dio di sono il punto diciamo debole del sistema perché praticamente sono gli uf 4007 che reggono un chilovolto sono dio di standard niente di speciale alto voltaggio assolutamente no li ho messi 4 per ogni stadio quindi due in serie per ogni linea diciamo così e quindi con questi condensatori da due chilovolto circa è il dio di da due chilovolto circa diciamo che ogni stadio regge e moltiplica due chilovolto somma due chilovolto il moltiplicatore ovviamente non lo faccio funzionare con la frequenza di rete la tensione del rete anche se ho provato anche quello è qualche scarica la fa qua utilizzo un flyback di tv anni 70 praticamente una vecchia ciabatta però inferrite anche se un po sottilino ma ce la fa auto avvolto fatti in casa niente di extra come lavoro fatto col trapano abbastanza facilmente velocemente e sono 20 ispira al primario proprio rame semplicissimo smaltato e 800 al volti o qualcosa del genere e poi c'è il circuito driver e poi c'è il circuito driver secondaria a volte su una siringa se vedete la siringa c'è la siringa e lo faccio funzionare a circa 50 kilohertz tramite il circuito driver e sì come efficienza ovviamente non pretendiamo granché però ce la faccio la fa tensione di picco in uscita non lo so potremmo essere con gli 800 volt qualcosa del genere e poi c'è il circuito driver questo lo utilizzo un po per tutti i miei trasformatori flyback che trovo eccetera eccetera diciamo classe c chiamiamolo anche se non è che un oscillatore semplice c'è un 555 con un trimmer per regolare la frequenza è un mosfet niente di speciale un irf 630 che 200 volte 14 ampere niente di che si riscaldava pochino alla fine poco particolarità il circuito non è alimentato con una sola tensione ce ne sono due una per 555 tramite 78 12 che la porta 12 volte perché pare che a 20 volte non regge molto il 555 e poi l'altra tensione quella di potenza glielo do con l'alimentatore variabile al momento spento in questa maniera separata posso praticamente utilizzare applicare qualsiasi tensione che voglio tipo mezzo volt un volt si può fare praticamente non essendo un circuito che funziona in unica alimentazione ce l'ho diciamo indipendente quindi posso giocare in come a voglio e poi che ci abbiamo ho messo una massa che porto direttamente alla massa di casa e questa è messa nel punto negativo del sì perché genera positivo questo qua nel punto negativo del moltiplicatore voglio evitare di lasciare floating qua tutto il discorso perché vorrei evitare scariche sul nucleo eccetera eccetera lo spark up anche questo artigianale sono due punte più o meno tondeggianti di presa sip telecom avete presente quella vecchio stile che probabilmente avete ancora in casa e c'è tre piolini sono abbastanza diciamo hanno una forma adatta anche perché se utilizzavo i fili normali appuntiti magari stagnati c'era il problema che faceva molto effetto corona distanza massima quindi il record mondiale al momento siamo a 32 mm 31 li becca sicuramente quindi fa anche una bella scarica alla fine rumorosa abbastanza minacciosa e questo è il risultato è il risultato Grazie a tutti